Alle prime luci dell'alba, a Caivano, San Marcellino e a Versa in provincia di Caserta, e altri luoghi, i carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Castello di Cisterna hanno dato esecuzione a un decreto di fermo a carico di nove persone. Ad emetterlo la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, nei confronti di altrettanti indagati, gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso, Estorsioni aggravate dal metodo mafioso, corruzione ed altro Operate numerose perquisizioni in vari siti L'attività di indagine e gli odierni provvedimenti coinvolgono anche alcuni esponenti della precedente amministrazione del Comune di Caivano. Il provvedimento eseguito è una misura precautelare, disposta in sede di indagini preliminari, che sarà trasmessa al giudice per la convalida e l'emissione di ordinanza cautelare, avverso la quale sono ammessi mezzi di impugnazione. I destinatari del decreto di fermo sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.